lo so, ma le figure di domenica non si fanno più, quello ve lo garantisco io, grazie a tutti un tanto di applausi ma il passaggio sulla figlia un pezzo teatrale straordinario comunque, fermi tutti, prossimo ospite siamo contenti di avere qua il direttore Fabio Ravezzani buonasera direttore ben trovato direttore vuole commentare la conferenza dell'allenatore del Grosseto, l'avevi vista? un pezzo teatrale mi aveva visto un pezzettino, non nella sua interezza diciamo che la sogniamo di qualsiasi allenatore di Serie A purtroppo l'ha fatta l'allenatore del Grosseto meriterebbe un palcoscenico più importante voglio dire, mi piace la parte che lui si è preso totalmente la responsabilità mi è piaciuto, rivedermi lo stipendio non lo farebbe nessuno in Serie A ci sono due grandissimi allenatori allegri faccio il nome e cognome Allegri e Mourinho non lo avrebbero mai fatto dovrebbero dare i soldi a chi avrebbe le partite perché hanno fatto annoiare sempre i tiposi non mi è piaciuto però il passaggio trasmettendo a tutti quanti che si campa solo di calcio questo non mi piace il calcio è un contorno diamo un messaggio ai ragazzi che c'è la famiglia lo diceva anche Giuseppe Mourinho chissà solo di calcio Mourinho diceva solo non allenava Harry fammi andare dal direttore perché visto che sta seguendo il direttore ovviamente molto bene tutta la vicenda legata al tema al caso Ultras con in cui sono collegate Inter e Milan ha visto la dichiarazione oggi di di Spalletti su su Inzaghi commenta in maniera un po' Sibillino c'è una frecciata abbastanza diretta dicendo io non mi è mai successa una situazione del genere perché io rispondo al telefono ma sono in grado di riattaccare come ne è sembrato? ha detto una cosa importante ha detto una cosa seria vera però lui non si è mai trovato nelle situazioni di di dover in qualche modo subire delle pressioni spaventose perché lui ha allenato sempre squadre che non hanno fatto grandi successi internazionali e quando gli è successo col Napoli non sappiamo cosa sia accaduto bisognerebbe fare come Spalletti su questo sono d'accordo cioè io giustifico gli allenatori e i dirigenti che si piegano non li approvo ma li giustifico perché quando si muove l'andrangheta quando si muovono personaggi che possono mettere paura diventa difficile fare gli eroi certo se un errore è stato commesso e ne sono stati commessi dalle società e in qualche modo anche dai diretti protagonisti quindi parliamo di calciatori allenatori è stato quello di non essersi fatti impermeabilizzare a questi messaggi e allora Inzaghi che alle prime armi che è molto giovane ha fatto quello che ha fatto anche ai tanti alternatori ricordo Conte per esempio che aveva rapporti preferenziali con il famoso Bocia che era l'ultra più pericoloso dell'Atalanta che era quello che nelle intercettazioni diceva Andrea Agnelli cerchiamo di dare i biglietti a questi qui della curva perché avere la curva Conte diventa un problema per la squadra quindi Inzaghi ha fatto della Realpolitik avrebbe fatto meglio lui a dire no scusate abbiate pazienza è vietato parlare con gli ultra me l'hanno spiegato in società quindi è inutile che ci parliamo perché la società rischia di essere sanzionata rivolgetevi a un altro referente ecco in quello ho sbagliato Inzaghi in quello ho detto bene Spalletti poi bisogna sempre esserci nelle situazioni io ho avuto nella mia carriera anche minacce da parte degli ultra dell'Inter parlo di quasi vent'anni fa e mi hanno tirato all'uscita dalla televisione in piena notte sono presentato in quarto hanno arrivato una bottiglia per distruggere il mio parabrezza per fortuna non l'hanno colpito l'hanno colpito solo uno specchietto si è mossa la Digos ho ricevuto due pallottole non sono sceso a patti ma il fatto che io non sia sceso a patti cioè che non mi sia messo a cercarli a cercare di spiegarmi ok si sono presentati in 350 davanti alla mia televisione sono dovuto uscire io in mezzo a tutti questi qua non significa però che qualcuno invece queste cose le consideri evitabili se per evitarle magari devi dare un po' di corda a uno di questi capi tifosi anche se non ti piacciono tanto io non mi sento di condannare quindi Spalletti è stato scorretto non so se il termine è giusto nei confronti di Spalletti è un po' matto è considerato un po' matto nell'ambiente e lui ha detto secondo me è una cosa giusta importante vera però liquidare tutto dicendo no ma io non do il mio numero quindi come dire se Inzaghi ha dato il suo numero la colpa è sua anche no perché lì si parlava di un giro d'affari spaventoso 800 biglietti in più voleva dire credo mezzo milione di euro nel rivenderli o quasi e c'erano dentro persone che all'epoca non sono ancora stati ammazzati i capi ultra perché il primo omicidio questo di Bojocchi è avvenuto due anni fa poi c'è stato quest'altro di Bellocco adesso insomma c'è stata un'escalation preoccupante probabilmente gli ultra dell'Inter intanto l'Inter in cui era Spalletti ripeto vicino a Napoli non lo so ma l'Inter in cui era Spalletti non vinceva niente quindi non c'era neanche grande interesse per presidiarla per chiedere i biglietti perché faceva malapena l'Europa League insomma era un'Inter modesta quando c'è il giro da fare di milioni di euro la mala sale di livello arrivano magari appunto dall'endrine arrivano personaggi che si sparano in testa come è successo e ripeto capisco che Simone Inzaghi o i dirigenti dell'Inter parzialmente di Milano come era successo per la Juventus fossero un po' inquieti e forse non si sentissero del tutto tutelati anche perché una parte di questi ultra poi erano ben conosciuti dalla Digos e non c'è stata nessuna procura che ha deciso di fare niente noi qui a Milano abbiamo vissuto l'umiliazione di una curva fatta uscire durante una partita in segno di lutto per un ultra morto su un'esecuzione mafiosa un ultra che era a sua volta a capo comunque si sapeva di un gruppo che aveva interessi criminali ecco quando si arriva tanto quando tu vedi 3500 persone che sono lì in curva per vedere la partita obbligate a uscire perché è stato ucciso con un proiettile in testa ancora non si sa da chi un esponente comunque di una cosca di una parte della malavita poi è facile fare la morale a Inzaghi ma prova a pensare anche a cosa vivono e come ha potuto vivere l'ambiente interista e nero azzurro in realtà di questo genere in chat sono presa con lei direttore perché ha detto Spalletti non è abituato a questo tipo di pressioni e in chat tifosi della Roma tifosi del Napoli della Roma quando Spalletti ha risultato il caso Totti che è stato un bel clamore mediatico ma come Spalletti è stato in piazze caldissime poi lei ha spiegato ma attenzione non confondiamo la piazza caldissima con la piazza che è etero diretta da Lendrine a livelli molto superiori cioè non sto dicendo che Spalletti andava alle giostre sono benissimo ahimè sono nel mondo del calcio da tanti anni ma l'infiltrazione mafiosa di cui sono state vittima la Juventus prima e l'Inter poi non perché siano più belle più brave o più delinquenziali delle altre ma perché portavano nei loro anni d'oro in parte l'Inter e adesso a eventi che prestavano il fianco nella rivendita dei biglietti a interessi di centinaia se non di milioni di euro portano un nuovo livello di pericolosità da parte della criminalità organizzata non confondiamo più lo dico per chi eccepisce su quello che dico io non confondiamo più e non confondiamo mai Gabo faccio per dire il famoso tifoso laziale che è il tifoso duro puro un po' violento il tifoso insomma di che magari in piccole zone marginali di criminalità piccola criminalità ecco con la grande organizzazione mafiosa che è tutt'altro livello e quindi ripeto è molto facile dirlo poi quando ci sei in mezzo magari hai degli atteggiamenti un po' diversi lì nel caso lì nel caso specifico lo dico per per di cronaca di Gabriele Sandri la criminalità c'entrava poco perché lì è vittima sull'autostrada di una di qualcosa di assurdo e poi c'è stata anche una sentenza che ha condannato il poliziotto responsabile lì stiamo parlando di proprio di un episodio che non può neanche essere preso in considerazione per quanto grave perché da una parte all'altra dell'autostrada lì parliamo di una vittima assoluta una cosa però direttore ma quindi l'Inter ai tempi di Spalletti era diversa a livello di tifoseria? beh diciamo che un certo tipo di infiltrazione della criminalità di alto livello si è registrata nel momento in cui l'Inter ha cominciato a partecipare a grandi competizioni cioè è evidente che se tu sei quarto in classifica eliminato dalla Champions League e hai una semifinale di Coppa Italia al grande crimine non gliene può fregar di meno se però tu hai una finale di Champions League e si parla di 1800 biglietti in curva a disposizione della società la società ne dà soltanto 600 ce ne sono 1200 la comunità organizzata è estremamente interessata a quei 1200 biglietti perché possono valere quasi 1000 euro l'uno hai capito? quindi è chiaro che si muovono su altri livelli sì Andre voglio sentire te una domanda no no io sono d'accordo che è un argomento veramente scivoloso che nel mondo ideale dovrebbe essere denunciata una cosa del genere credo che però bisogna andare alla radice e cercare di cambiare le regole cioè le società non dovrebbero poter regalare i biglietti cioè sarebbe molto semplice se blocchi questa cosa blocchi scusate lo so che è una cosa anche esagerata no? perché però la disponibilità di mille biglietti è questa no? direttore che mi stona in teatro i biglietti omaggio non possono essere più di 20 per legge dopodiché ci sono degli escamosaggi uno mette il biglietto a 2 euro però torna per permettere di fare un lavoro professionale se c'hai mille biglietti da regalare è tanta roba probabilmente non sono omaggio probabilmente erano a carico della società no è una vendita era in vendita e la società li dà gratis a questi no no li hanno pagati però c'è un ricarico mostruoso è chiaro è chiaro c'è un biglietto da 60 euro diventa un biglietto da 600 euro anche perché oltre al biglietto poi c'è l'organizzazione del viaggio trasporto ci sono tante cose annesse che rincarano ai club certo il passaggio che ci frega è perché lo dà l'inter club se l'inter club è in mano a una società criminale lì nasce vedete che si scivola da tutte le parti perché tutte le società hanno un dirigente addetto ovviamente ha rapporti con i tifosi e con gli ultras tutte le società c'è una figura dirigenziale che se ne occupa anche l'inter ce l'aveva è una cosa normale non diventa più normale quando c'è tutto quello che sta succedendo cioè quando dietro ci arriva la criminalità organizzata ci arriva l'andrangheta diventa tutto più difficile e questo si è visto tantissimo è una una riflessione che cerco di portare e chiedere l'opinione del direttore perché qua non so neanche così addentro quindi cioè che in questo caso io non trovo grandi colpe trovo che sia giusto e ad un certo punto la magistratura scopra che una società criminale sia infiltrata cioè chi subisce la roba è come chi è vittima del pizzo alla fine cioè quando non denuncia non viene accusato di omissione di denuncia perché si sa bene cosa sono eroi quelli che riescono a denunciare infatti vengono messi sotto scorta o addirittura portati via da dove vivono quindi io credo che non ci siano grosse cose scure nei confronti dei protagonisti è andato tutto come doveva andare questa roba deve fare la magistratura non in zatti è chiaro che l'Inter ha sbagliato qualcosa ci sono stati comportamenti comunque inappropriati per quanto fossero come il Milan anche se l'Inter mi sembra in maniera molto più evidente anche perché comunque per esempio la vicenda finale di Champions League l'ha fatta l'Inter c'è il forte sospetto che a parità di condizioni si avesse fatta il Milan che poi era arrivato in semifinale sostanzialmente quell'anno lì poteva succedere anche al Milan il punto però è anche che il tipo di tutela c'è sul territorio cioè mi fa piacere che voi siate come dire un po' all'oscuro di questa cosa io invece la vivo quotidianamente ma voi dovete immaginare che dopo che viene ucciso con un'esecuzione chiaramente mafiosa il capo della curva dell'Inter in quella stessa sera i suoi compari i suoi sodali obbligano 3500 persone a lasciare la curva dico 3500 poi sono 4000 non so migliaia di persone sapete cosa è successo nei due anni successivi? Zero cioè un fatto così umiliante per la città di Milano non ha trovato un solo arresto è stato non sappiamo ancora oggi chi sia l'autore dell'omicidio sappiamo che è un omicidio stampo mafioso che ha dei mandanti che probabilmente appunto sono nell'ambito dell'andrangheta della mafia ma non hanno trovato l'esecutore neanche il mandante ma neanche si sono messi almeno a ridurre in galera quelli che avevano obbligato tutti gli altri ad uscire che è un fatto di una gravità inaudita allora evidentemente siamo di fronte anche a una magistratura che ha diciamo dormito non ha preso misure preventive e che cosa succede nei due anni successivi? Succede che ne ammazzano un altro no? Quindi è la dimostrazione il fallimento tant'è vero che quando è che vengono adottate poi delle misure restrittive che essendo uno stato di diritto dobbiamo ancora capire fino a dove siano legittime giuste ok ma insomma quando è che cominciano a mettere la gente in galera a far sentire la mano dello stato? Due anni dopo quando c'è il secondo morto ma sembra di essere a Bagdad non a Milano eh sì no è vero vicenda pazzesca intanto prima di una domanda di Henry Flash che poi salutiamo il direttore saluto Andrea ciao Andre ciao ragazzi ciao Andrea Magliarri no intanto faccio i complimenti il direttore non fa mai zero a zero lo dico veramente direttore io cerco di non avere per usare la lingua però Spalletti io devo dire che è stato di una scorretta sapete quanto stimo Spalletti per me l'allenatore ad oggi più preparato che c'è in Serie A compresa la nazionale ma è stato di uno scorretto unico ha fatto il fenomeno perché Spalletti ha fatto il fenomeno ha messo in difficoltà Inzaki facendo vedere che Simone Inzaki è il tonto invece Simone Inzaki è uno che vuole evitare momenti delicati ha pensato la squadra ha pensato a portare i tifosi nella finale di Coppa Italia quindi caro Luciano Spalletti te lo dico con quel po' che abbiamo scambiato si è stato scorretto perché ha voluto fare Fonsi e fare Fantozzi a Simone Inzaki questa cosa qui la trovo veramente poco carina mi dispiace voto zero a Luciano Spalletti questa era direttore cosa si aspetta dalla nazionale questa sera non lo so cosa vuole vedere da questa nazionale intanto se le piace questa nazionale di Spalletti lui ha fatto un disastro epocale agli europei questo è evidente mi pare però che essendo persona intelligente abbia capito dove ha sbagliato un atteggiamento molto più inclusivo tra ne oggi direttore sono d'accordo con te avrebbe potuto dire un concetto simile in maniera meno netta e meno fenomenica ecco perché sei il cittadino nazionale vero quindi mi aspetto un'Italia divertente ecco diciamo che nelle partite che abbiamo visto nelle ultime due abbiamo ritrovato l'Italia che speravamo con Spalletti che resta un ottimo allenatore si è giocato tutto dal punto di vista psicologico negli europei mi pare ripeto che abbia adesso un approccio diverso più coinvolgente nei confronti dei giocatori che sembrano finalmente giocare anche per il loro allenatore e quindi mi aspetto una partita divertente poi sai dipenderà da tanti fattori direttore grazie di essere stato qua un piacere davvero grazie Fabio buona cena grazie che è passato a trovarci eccoci qua no volevo fare una specifica perché già l'ho fatta prima mentre parlava il direttore ma secondo me è doveroso sottolineare che secondo me è totalmente sbagliato anche soltanto inserire nello stesso ragionamento nello stesso contesto il nome di Gabriele Sandri con tutto quello che abbiamo raccontato in questa live nell'intervista in ciò che stava dicendo più che altro Ravezzani perché in quel caso non stiamo parlando neanche di un tifoso tra virgolette perché lì viene ucciso un ragazzo che si trova a quasi 400 km di distanza dallo stadio San Siro perché stava andando in trasferta a vedere la Lazio era in un autogrill a dormire nella propria macchina